Ciao a tutti ragazzi, noi siamo in due bombe, la sto vincendo oggi Soprattutto una bella raga, un nuovo video Allora ragazzi, meglio dire che queste due challenge Ragazzi, in questo video faremo la Partita challenge In pratica, le parti sono quelle La mosca cammina me la saluta Rita, saluta Rita E in questo video faremo la Si arriverà a 5 E solo in questo video Vanno i batti nuvi Se tocca a nuvi e poi vai in portano bani Ora andiamo La telecamera Allora, al cameraman Che ci poterà Qualche volta entrerà nel campo per spostarsi Beh, ragazzi, dai Ma quanto mesi Le aree sono queste Bombe e dovrà seguire No, ah, fuori Bellissima No, non salta a chiudere Adesso Ragazzi Ah, è proprio il camera Risa, fino a noi ci muoviamo Tutti rimettiamo Vai, così vieni tutto Ha toccato una cabeza Con una zero Che dice che il cantone è più forte Che? No, non salta a chiudere No, non salta a chiudere La schiena è buona La schiena è buona Oh, capito, veloci E' un grande riscita Se stiamo lontano Vediamo la situazione Sì, adesso giamo solo io Ditevi se tutti tutti faranno Gioca meglio e non lo puoi fare non è toccata non è toccata non è toccata non lo fanno non lo fanno mani non lo ho preso non lo ho preso non lo ho preso oh vai oh vai dai alla ragora a 5 e a 3 stiamo è uscita è uscita è uscita oi mi chiamata mi chiamata stiamo allontano in grandisce ok andiamo non ci sono Sotto le gambe alla baluccia come faceva la baluccia che non vada, stai soltanto non vada, la baluccia è arrivata, si vede così, com'era, così, così, salverò le lettere dei suoi figli e poi ci dà, tanto, vada, lo vediamo, attacco, attacco, è l'ho buttata fuori, ora mi spingeremo la baluccia, a, o, oh, ho toccato, ho toccato il Nembri, oh, mi parli Harris! Che boliva, che triga... GUM, modère, modère... Pesa diuìятно... ...è l'ultimo muro! Non superare ancora, poi Hawaiian! come sto? nooo faro io non oggi è l'ultima ora è l'ultima ora ora la nasce faro nooo vai dar l'ultima ora 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 ma lo alcavo eh guarda non è la cazza 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 che cazza quindi con il tuo abbraccio con il tuo abbraccio di Danovillo seguitela su Instagram le lascerò il link in descrizione Rita, come ti chiami su Instagram? non mi chiedo Rita Novella la lascerò anche in descrizione oh, palo raga è la data gold è vincito, è vincito aspetta a mare il gioco mamma, mi fa coltonire è il cazzo salutate e allora ragazzi questo video può finire qua se no mi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un bel like se no mi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un bel like commentate, condividete per un prossimo video bella raga, vi lascerò il link in descrizione su Instagram come si chiama? Rita Novella